Mamma mia, come siete ben equilibrati, non fumate, non avete mai crisi di coscienza. Dove sono le sigarette? Mi senti? Ok, adesso mi trovi un motivo, ho qualcuno che viene qua adesso. Adame, ho un motivo per rimanere qua, così. So che ti fa il spettacolo, a me non mi frega un c***o. Perciò arrivi qualcuno qua, nel prossimo mezz'ora, per spiegarmi perché dovrei rimanere. Perché io ci sto, il problema mio è che io ci sto, capito? Cioè, io non ho, cioè, mi posso anche mettere in gioco, però... Se non avete capito che io qui non sto bene in questo momento, e mi venite a rispondere con queste risposte del c***o, o siete professionisti o io mi vado. Allora fai arrivare qua, entro la prossima mezz'ora. Una persona che ci parla, ci parla con me, in un modo, non lo dico razionale, in un modo un po' più informato, mi fa arrivare due pacchette di sigarette nei prossimi cinque minuti, uno per me e uno per me, con coinquiline. Ci siamo capiti? Ma qui, io ho le emozioni veri, i miei amici hanno le emozioni veri. O mi svegliate o me ne vado. Ora dipende da voi, quanto volete che io rimanga.